L'innovazione ai giovani sono due parole assolutamente legate, nel senso che l'innovazione la fanno i giovani. Noi ormai siamo, mi metto superati 50 anni da un bel pezzo, mi metto nella categoria di anziani. Credo che è importante capire quali sono le loro visioni e quindi stimolarli nel presentarcele perché noi abbiamo difficoltà oggi a seguire il ritmo dei giovani. La società moderna, la velocità della tecnologia, della visione, della comunicazione comincia a essere difficile per noi interpretarla e difficile per noi seguirla. L'immobiliare è poi un mercato lento, quindi applicare la velocità della tecnologia e dell'innovazione al mercato immobiliare è una sfida interessantissima, ma che possono portarla avanti solamente i giovani perché hanno loro questa mentalità e questa capacità di interagire con il mondo attuale. Questo è un po' lo stimolo che vogliamo dare con questo premio e questo è un po' anche il contatto che vogliamo avere con un mondo dove noi dobbiamo imparare perché loro sono sicuramente più avanti di noi, sicuramente più capaci di noi. Quindi dobbiamo stare lì a ascoltare, capire come vedono il futuro, sia in che modo lo vedono e sia in che modo intendono interagire con il futuro per renderlo sicuramente migliore del presente. Questo riguarda un po' tutte le branch dell'immobiliare, quindi la progettazione, l'innovazione tecnologica degli edifici, a tutto il tema ambientale, sociale. Ci sono tantissimi temi che probabilmente cominciano a sfuggire alla nostra capacità di previsione e sono molto più nelle corde dei giovani e quindi ascoltiamoli e cerchiamo di capire da loro come evolverà il mercato.